Il 20% dei turisti che hanno visitato le Marche nel 2020 sono lombardi. Questi dati sottolineano l'importanza dell'incontro a Palazzo Raffaello ad Ancona tra il presidente della regione Marche con delega al turismo Francesco Acquaroli e l'assessore regionale della Lombardia al turismo, marketing e territoriale e moda Lara Magoni in trasferta in questi giorni nelle Marche. Obiettivo confrontarsi su possibili iniziative e strategie comuni da intraprendere per rilanciare settori cruciali come appunto il turismo, la moda e il design. Presenti all'incontro in parte in streaming i rappresentanti di circa 30 associazioni di categoria coinvolte che hanno dato il loro contributo di idee e riflessioni. La Lombardia abbraccia le Marche, sono scese per incontrare il presidente Acquaroli con il quale vorremmo, siamo in procinto di fare un accordo di collaborazione perché riteniamo che siano tante le sinergie che legano regione Lombardia con regione Marche. Il presidente Acquaroli è molto attento al territorio, delle Marche che nascono dalle montagne e vanno sul mare, una Lombardia che parte dalle montagne, è una zona lacustra immensa, ma soprattutto che ci lega a saper fare artigiano.